La quiete dopo la tempesta in Algeria, tanto più che i leopardi come gli algerini chiamano i parà della legione straniera, sono tutti consegnati nelle loro caserme. Ad Algeri nessuno pensa più alle sommosse e agli attentati. La lotta si è spostata a Parigi, dove l'aspietata guerriglia infuria nel maquis di cemento e di asfalto. Centinaia di prigionieri algerini vengono rilasciati ogni giorno in seguito alla tregua unilaterale proclamata da Louis Jogs alla vigilia dell'apertura dei negoziati franco-algerini di Evian. Gli ex prigionieri tornano alle loro famiglie e ai loro caffè preferiti. Alcuni giocano a scacchi, ma attenzione a non lasciarsi ingannare dalle apparenze, molti di essi sognano sempre di dare scacco matto alla Francia.